Una maxi operazione sull'intero territorio nazionale contro la pedopornografia è stata eseguita questa mattina dal personale della Polizia Postale della Comunicazione, su disposizione della Procura della Repubblica di Salerno. Le perquisizioni sono state effettuate in 14 regioni, Campania, Lazio, Piemonte, Lombardia e Emilia-Romagna, Puglia, Sicilia, Calabria, Marche, Abruzzo, Veneto, Toscana, Liguria e Trentino Alto Adige. Il bilancio è di tre persone arrestate, 33 denunciate, 37 perquisizioni effettuate. A far scattare le indagini è stata la segnalazione di un cittadino scoperto in seguito materiale pedopornografico in un archivio nascosto denominato la Bibbia 3.0, contenente migliaia di file di fotografie e video ritraenti donne, adolescenti nude e in pose erotiche. Identificato anche il contributo dall'archivio informatico e dalle persone coinvolte nella chat, identificando tutti coloro che hanno inviato foto dell'ex fidanzata o di minori estrapolate da telefoni e computer in riparazione. Scovate anche foto di ragazzi e adolescenti prelevate da profili pubblici. Due dei tre tratti in arresto dovranno comparire in tribunale per detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Uno di loro per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti oltre al sequestro di centinaia di supporti informatici contenente migliaia di file pedopornografici. Dovranno rispondere al reato di detenzione di materiale pedopornografico tutti e 33 i denunciati.